Musica Venerdì 5 dicembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Ore di attesa per la GAM di Boiano. Ieri sera si è tenuta una riunione del tavolo tecnico per definire le modalità di passaggio dei primi 50 lavoratori alla nuova azienda. Stasera è atteso il faccia a faccia tra Diego Volpe Pasini e i sindacati. Ci dice tutto in questo servizio Giovanni Minicozzi. La svolta sulla vertenza GAM potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto l'ennesimo incontro tecnico voluto dai sindacati con i funzionari della regione, gli esperti dell'Inpes e dell'Ispettorato del Lavoro tenutosi a Palazzo Vitale è servito a mettere a fuoco i problemi legati al passaggio immediato chiesto da Diego Volpe Pasini di una cinquantina di lavoratori dalla cassa integrazione all'azienda denominata Area Food. L'imprenditore, infatti, che ha manifestato interesse a rilevare la filiera vicola, intende iniziare in proprio l'attività lavorando da subito 80.000 polli a settimana. I sindacati comunque hanno chiesto garanzie contrattuali sia al tavolo tecnico sia alla regione. La regione ci ha ripetuto un'altra volta che comunque vogliono ripartire subito e a noi questo ci fa molto piacere perché noi abbiamo bisogno di lavoro, non di cassa integrazione. Però è chiaro che questa comporta ad avere le tutele di tutti questi lavoratori, anche se è per un piccolo gruppo, ma devono essere tutelati al massimo per cercare di andare avanti e riprendere l'attività lavorativa. Quanti saranno i lavoratori impegnati in questa prima fase? Ci hanno detto che sono oltre ai 30 dell'incubatoio, 27, 30 dell'incubatoio, un'altra 15 o 20 presi dalla cassa integrazione della GAM. Quindi, ripeto, a noi fa piacere, però ci deve essere la tutela per tutti e la garanzia. C'è attesa ancora per la firma della cassa integrazione straordinaria da parte del Ministero? Noi abbiamo fatto una richiesta di incontro al Presidente Frattura e anche al Prefetto per un incontro urgente perché ci sono tanti punti critici che ancora non sono risolti e siamo molto preoccupati per cercare di risolverli. C'è attesa intanto, nelle prossime ore, l'incontro con il nuovo imprenditore Volpe Pasini? Sì, noi, ripeto, siamo disponibili a qualsiasi dialogo, anche se abbiamo visto che questo imprenditore comunque ha fatto questa manifestazione di interesse. Però dobbiamo sempre cercare di tutelare al meglio tutta l'occupazione e siamo disponibili a qualsiasi confronto. Resta dunque il problema legato alla firma della cassa integrazione straordinaria da parte del Ministero del Lavoro, ma l'atteso faccia a faccia tra Diego Volpe Pasini e i sindacati che si terrà nelle prossime ore nella sede della Giunta regionale alla presenza di Paolo Frattura potrebbe riaprire la speranza per il rilancio della filiera vicola molisana bloccata ormai da circa 14 mesi. E si parlerà ancora di crisi del sistema produttivo con particolare riferimento alla GAM nella puntata di Moby Dick in diretta questa sera a partire dalle 21. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno la consulente della regione Carmela Lalli, il sindaco di Campochiaro Antonio Carlone, il presidente di Conf Cooperative Domenico Calleo, i segretari della CISL Gianni Notaro, della UIL Pasquale Guarracino e Giancarlo Dilio, RSU GAM, Giovanni Cristofano, presidente della cooperativa Allevatori AAA. È previsto anche l'intervento esterno del sindaco di Boiano Antonio Silvestri. Il governo ha rinviato il pagamento dell'Imu agricola previsto per il 16 dicembre su sollecitazioni del PD, ora si è in attesa di una soluzione tecnica per rivedere anche le tabelle dell'Imu e i criteri secondo i quali un terreno agricolo è tenuto al pagamento oppure no, lo ha affermato il senatore Roberto Ruta, capogruppo del PD della Commissione Agricoltura, che insieme al collega Nicodemo Oliviero ha espresso soddisfazione, ma entrambi restano in attesa di un provvedimento urgente che rinvii la scadenza del pagamento almeno a giugno del 2015. La Corte di Appello di Campobasso ha condannato tre medici del Cardarelli accusati di omicidio colposo in relazione alla morte in ospedale di una partoriente di 34 anni di cerce piccola, il servizio di Enzo Di Gaetano. Causa della morte di Giovanna Simiele fu la fatalità del destino, ma anche una serie di errori e una trasfusione fatta troppo tardi, un evidente caso di mala sanità. I giudici della Corte di Appello di Campobasso hanno riformato ieri mattina la sentenza di assoluzione in primo grado per tre medici ginecologi del Cardarelli accusati di omicidio colposo relativamente alla morte della 34enne di cerce piccola avvenuta il 25 gennaio del 2007 dopo un parto cesareo al termine del quale venne alla luce una bimba che oggi ha quasi otto anni. Alla sbarra in primo grado, oltre ai tre medici ginecologi, pure un medico anestesista, anche egli assolto. Il verdetto fu impugnato sia dalla procura che dalla parte civile, quest'ultima rappresentata dall'avvocato Arturo Messere. E' proprio ieri mattina è stata messa la sentenza che condanna a sei mesi uno dei tre ginecologi e a quattro gli altri due. Per tutti e tre la pena è stata sospesa, confermata anche in appello l'assoluzione del medico anestesista. L'avvocato Messere è inoltre riuscito ad ottenere dalla Corte il riconoscimento di una provvisionale pari a 80.000 euro in favore del vedovo. Giovanna Simiele, la partoriente deceduta, fu ricoverata al Cardarelli il primo gennaio del 2007. 24 giorni dopo, i medici decisero di eseguire il parto cesareo che purtroppo ebbe esito fatale in seguito ad una forte emorragia. Ma la sua morte poteva essere evitata. Lo ha dichiarato il medico legale dell'Università di Napoli, nominato dall'avvocato Messere come esperto di parte civile. Il consulente ha sottolineato come la causa dell'emorragia che ha portato la Simiele alla morte sia stata l'asportazione manuale di parte della placenta che era rimasta attaccata. L'asportazione della placenta aveva provocato un'emorragia che aveva abbassato notevolmente la pressione sanguigna della donna portandola a valori bassissimi. Alle 10.15 di quel 25 gennaio si decideva proprio a causa dell'emorragia di asportare anche l'utero. Ma la prima sacca di sangue per la trasfusione arrivava solo quasi mezz'ora dopo alle 10.40. Un ritardo fatale, un tempo troppo alto per non compromettere la situazione clinica della povera Giovanna Simiele deceduta otto ore dopo l'operazione. Insomma, una serie di errori ritardi che portò alla morte della 34enne che lasciò il marito e quattro figli di cui uno appena nato. Cambiamo argomento i sapori della cucina molisana le sue prelibatezze e i territori da cui provengono sono stati elogiati nel numero 6 della rivista del Gambero Rosso Sua Eccellenza Italia. Dai vitigni che hanno ottenuto riconoscimenti con particolare attenzione alla tintiglia al tartufo, il miele, l'olio extravergine d'oliva ma anche formaggi e salumi fino alla pampanella di San Martino in Pensilis e la pezzata di capracotta. Della menzione ha parlato l'assessore regionale dell'agricoltura Vittorino Facciolla che ha sottolineato come il Molise sia una regione che possiede tutte le caratteristiche per essere invidiata. Una piccola realtà ha detto che punta sulla qualità dei prodotti dove spicca la biodiversità e in fatto di bellezze Facciolla non ha dimenticato di citare le riserve naturali di Monte di Mezzo e Colle Meluccio dopo il successo di Agri Summer Food ha concluso l'assessore stiamo pensando di organizzare una kermesse invernale. È tutto per la nostra informazione e adesso la rassegna stampa. Con Gianfrancesco Iaccaruso in Reggio vediamo subito il giornale del Molise.it come titola Falce e macello storia di una famiglia in cassa integrazione affossata dalla sinistra delle chiacchiere l'articolo è a firma di Pasquale Di Bello che scrive l'inchiesta del giornale del Molise sul mancato pagamento della cassa integrazione in deroga prosegue con la testimonianza di una famiglia monoreddito vittima dei ritardi e delle inefficienze regionali dall'assessore Petraroia ancora nessuna novità e nessuna soluzione continua intanto il silenzio dei sindacati scrive ancora Di Bello vediamo gli altri titoli del giornale del Molise.it boccata d'ossigeno per gli agricoltori molisani rinviato il pagamento dell'IMU agricola poi chiusura dello sportello Agea Cavaliere presenta un'interrogazione scippi agli anziani denunciato un ragazzo di 15 anni di Boiano il comando provinciale di Isernia presenta il calendario dell'arma dei carabinieri e poi caos treni convoglio fermo per tre ore nella periferia di Isernia per un guasto ai freni morte sospetta dopo il vaccino a breve risultati dell'autopsia sulla donna di San Felice del Molise cessione dei centri di riabilitazione Padre Pio i dipendenti si appellano al vescovo vaccini l'agenzia europea scaggiona il Fluad poi Di Pietro dall'addio all'Italia dei valori l'ex PM lascia la sede romana del partito ma annuncia mi inventerò una nuova vita fornitori Asrem sbloccato il programma dei pagamenti e dipendente provinciale indagato per truffa De Mattei si dice attendiamo comunicazione dalla magistratura appalti pilotati parla il sindaco di Acquaviva di Isernia sono sereno lavori assegnati rispettando le regole ci sono poi editoriali idee e opinioni ma anche altre notizie dalla regione dall'Italia e dal mondo passiamo a vedere come titola primo piano Molise la spending review si abbatte sulla sanità i governatori accettano un taglio da 1,5 miliardi risparmi su farmaci acquisto di beni e servizi intanto c'è l'ok al riparto del fondo all'esame del tavolo massicci il piano da 40 milioni per pagare i debiti del Molise le altre notizie Campobasso morì dopo il parto verdetto ribaltato tre medici condannati in appello poi rilancio GAM stasera il primo incontro tra area food e sindacati viaggiatori stipati fino all'arrivo di un altro minuetto la tratta Roma Campobasso la tratta ferroviaria della vergogna guasto al treno il convoglio si ferma Isernia per tre ore le altre notizie ancora da Boiano ha ciuffato lo scippatore di via Amatuzio appena 15 anni le notizie in alto audizione alla Camera area di crisi sindaci e presidenti di provincia misure straordinarie la regione da sola non ce la fa il Natale a Campobasso piazza Pepe chiusa per la pista di pattinaggio ma senza ordinanza venafro carsici lavoratori disperati addobbano l'albero con le bollette non pagate ancora dall'Abruzzo questa notizia cade dal tetto non ce l'ha fatta l'operaio 58enne di Pollutri per quanto riguarda invece lo sport derby stavano la prevendita per i rosso-blu 500 biglietti cresce dunque l'attesa per il derby di domenica tra l'Olimpia agnonese e il Campobasso passiamo passiamo adesso al quotidiano del Molise riparto del fondo sanitario a Roma confermano 560 milioni Petraroia a questi si aggiungano i 40 previsti all'interno della legge di stabilità 2015 per 10 euro l'appalto luminarie va a trattativa privata i consiglieri comunali pilone cancellario non mollano la presa e fanno i conti in tasca con la Giovanni si parla ovviamente di Campobasso sempre a Campobasso morì dopo il parto la famiglia va risarcita da Isernia la tratta Campobasso Roma il treno dei ritardi ancora da Boiano scippatore seriale a 15 anni stanato dai carabinieri sovrintendenza dei beni culturali ai 5 stelle il bando non piace IMU agricola ruta dopo il rinvio serve una misura urgente ancora Termoli scompare con la figlia ritrovate dopo ore di ansia per quanto riguarda invece lo sport serie D lupi da oggi la prevendita 500 biglietti per la sfida di Agnone sempre per la serie D Termoli sogna l'arrivo di Miccolic l'arco prova il colpaccio per il mercato Isernia shock via Panico Pepe e Fontana Montenero su Luongo vediamo adesso come titola la gazzetta del Molise il treno delle meraviglie c'è una foto mentre si ferma l'ennesimo mezzo Trenitalia acquista le nuove automotrici ora si punta sull'elettrificazione l'Oscar del giorno la gazzetta lo assegna all'assessore ai trasporti Pierpaolo Nagni mentre il tapiro del giorno va all'assessore regionale Vittorino Facciolla i quotidiani nazionali adesso la Repubblica mafia il sacco di Roma così la banda nera si spartiva agli appalti milionari dell'assistenza agli immigrati pull anticorruzione per la capitale Zingaretti blocca le gare Marino sotto scorta la svolta di Draghi da gennaio acquisti di bond scontro con i tedeschi della BCE la decisione sarà maggioranza rientro di capitali via libera alla legge e poi Quirinale il metodo Renzi deciderà l'assemblea del PD dai grandi elettori l'identikit del presidente passiamo adesso a vedere i titoli del Corriere della Sera Europa ferma la spinta di Draghi questo è il titolo in evidenza la banca centrale si divide ma annuncia l'intenzione di comprare dal 2015 anche i titoli di Stato crisi economica tagliate le stime di crescita passa la legge per il rientro dei capitali il governo non è un condono dice poi Roma la confessione così preparavo le buste per i politici mafia e tangenti parla la cassiera della banda e poi questa notizia di cinema il prossimo film di 007 con Daniel Craig Spectre il record di Monica Bond Girl Bond Girl ha 50 anni sarà lei dunque la Bond Girl del prossimo film passiamo a vedere la stampa Roma ipotesi commissario il prefetto stiamo valutando ma Alfano frena non è una città marcia ombre su alemanno dalle intercettazioni aiutato da amici mafiosi timori per la sicurezza del sindaco Marino e poi la BCE non decide giù tutte le borse rientro di capitali c'è la legge dalla stampa al tempo carne di porco nel mirino dei PM l'emergenza rifiuti dal Campidoglio alle Coop sotto inchiesta oltre un milione di euro per 15 giorni di lavoro l'altra faccia delle notizie è l'articolo a firma di Gianmarco Chiocci il giornale il ministro mangia e piange lo scandalo si allarga la cena con la cupola Poletti festeggiava una strana anomalia nel pagamento delle sue Coop ora si dispera ma dovrebbe dimettersi il prefetto valuta se sciogliere il comune di Roma partecipate lo scandalo Aquadrom 500 mila euro per non fare nulla per la cronaca crolla la versione del cacciatore Loris strangolato con un laccio l'alibi della madre era a un corso di cucina vediamo come titola libero la cupola romana lucrava 20 milioni l'anno sulla cassa gli affari con il comune oltre agli immigrati era l'emergenza abitativa la grande mangiatoia per la copros che foraggiava il sistema appena tre mesi fa Buzzi il BOS ha firmato un contratto da 1,6 milioni con l'attuale giunta la Lega supera Forza Italia con i voti del Sud ultimi sondaggi ecco i flussi elettorali del Carroccio il mattino di Napoli Loris incubo omicidio in casa strozzato con un laccio di plastica il giallo delle forbici trovate nella stanzetta la terza autopsia il bambino a tagli e graffi sul viso come se si fosse difeso sentiti anche padre e nonno Pizzo a Gomorra tv condannato il boss estorsione 8 anni anche ai genitori costretti a pagare per girare a torre annunziata i produttori non si costituiscono parte civile vediamo il fatto quotidiano così pagavamo i politici titolo in virgolettato la tesoriera di mafia capitale confessa la contabile del manager della cooperativa 29 giugno Salvatore Buzzi compare di carminati ogni mese preparavo le buste con importi sino a 10.000 euro lui passava a prenderle e le consegnava confermati anche i finanziamenti versati alla fondazione di Alemanno il prefetto di Roma dice il sindaco marino è a rischio deve avere la scorta dal fatto quotidiano ad avvenire i poveri non diventino occasione di guadagno sono le parole del Papa che dice ai volontari c'è tanto bisogno di gratuità nell'udienza alla Foxiv la solidarietà è un modo di fare la storia con gli ultimi la chiesa si cinge il grembiule si china a servire la gazzetta dello sport la notte dei grandi gioielli questa sera che sera alle 20.45 c'è il match Fiorentina Juventus quadrado contro Pogba e ci sono le foto dei due calciatori è sfida fra le due stelle che piacciono ai maggiori club d'Europa gli allenatori Montella punta su Mario Gomez Allegri torna alla difesa a tre e poi Inter più Osvaldo che Icardi anime agitate in vista della gara con l'udinese di Stramaccioni dell'ex Stramaccioni duello tutto argentino per una maglia l'ex romanista pur non al massimo segna lavoro e questo piace a Mancini Maurito è inquieto per il Milan il Sharawi e il suo Genoa domenica a Marassi il faraone che ha ritrovato il gol con la gazzetta dello sport termina la nostra rassegna stampa prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise come sempre alle 14 in diretta con il telegiornale grazie per averci seguito buona giornata grazie per averci seguito